È evidente che Marino è una barzelletta da questo punto di vista. Oggi fare il sindaco è difficile. È diventato sindaco. Assolutamente sì, però emerge in maniera estremamente chiara che fare il sindaco lo si fa in maniera completamente diversa. Perché il problema non è solo Buzzi, Casa Monica. Il problema è che Roma è mal amministrata. Allora, Buzzi, Casa Monica, Buzzi è la questione mafia capitale. Casa Monica è il funerale di questa stata. E' andato in America perché diceva che era stato minacciato. Ma ha chiamato il Papa. Adesso sta veramente diventando una caricatura di... No, no, però aspetta, aspetta, Molteni. Molteni, però... Un amministratore serio che abbia voglia di amministrare e risolvere il problema. Il problema qui non è più la Lega che anche per questioni evidenti di opposizione spara a zero su Marino. Ieri e io qui comincerei a preoccuparmi. Invece, ma se non ha sparato a zero, poco ci manca, direttamente il Santo Padre. Io non ho invitato il Sindaco Marino. Chiaro? Io non ho fatto e ho chiesto agli organizzatori, neppure loro lo hanno invitato. Lui è venuto. Lui si professa cattolico, è venuto spontaneamente. Era questo, primo. Ma è chiaro, eh?